Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Akarmind e questo è il video per il mio contest che avevo creato un paio di settimane fa in pratica è stato il primo di agosto che ho pubblicato il video, mi pare e mi dispiace di dare questa notizia ma non posso più fornire i premi quindi annullo il contest la motivazione è che non sono più in contatto con il modder, causa, cambiato crew, causa non so se riesco più a ritrovarlo online e non riesco a contattarlo ho provato a contattarlo non mi ha dato una risposta certa sul se mi riesce ancora a fornire i soldi sul GTA quindi li annullo in caso però siete stati attirati nel contest per avere l'account moddato per GT6 non c'è problema quello riesco ancora a fornirlo basterà che mi contattate in privato, mi iscriviate guarda che sono interessato al account moddato per GT6 e io sarò felice di potervelo dare ovviamente vi spiegherò il modo per poterlo usare e non vi è problema ecco quindi annullo il contest mi dispiace non appena troverò o il modder o qualche altro modder che mi riesca a fornire i soldi quindi non c'è problema in quanto io conosco un paio di modder ma mi hanno detto che non si prendono la responsabilità di fornire i soldi a persone che non conoscono in quanto potreste senza problemi contattare la Rockstar e non si prendono questo incarico quindi come sempre no non dico come sempre mettete mi piace condividete e iscrivetevi in quanto mi dispiace ho fatto questa cavolata e non riesco mica quindi da questo video è tutto io sono Ackermind e ciao a tutti a tutti